Questa settimana in orbita tre allegri ragazzi morti. Baccini a rock'n'roll è proprio il caso di dirlo, benvenuti in orbita su Telecapo d'Istria, in diretta dallo Stato di Naun, un caro saluto dai russos Ricky ed Elisa. Ciao, posso condurlo io in orbita oggi? Mi sa di no perché per contratto devo farlo io, ma tu devi essere prontissima, sta partendo l'autobus, devi correre a Capodistria per intervistare i tre allegri ragazzi morti, ce la farai? Devo proprio, è una zona più piccolosa. Devi assolutamente, no è la zona residenziale dello Stato di Naun, noi facciamo sempre le cose a modino, il biglietto ce l'hai? No io vado sempre sempre. Bravissima, è molto rock'n'roll anche questo, vai vai vai. Vado ad intervistare i tre allegri ragazzi morti, aspetta. Fatta, fatta, ti aspetto qua, ti aspetto qua. Tre allegri ragazzi morti, un progetto nato nel 94 che vede Davide Toffolo alla chitarra e voce, ma soprattutto disegni. Questo progetto intreccia rock'n'roll e fumetto. Enrico Molteni al basso, poi Luca Masseroni alla batteria. Nel live che vedremo di Tele Capodistria ci sono anche Stefano Pasutto alla chitarra e poi Marcella De Gregoris alla voce. E allora siete pronti? Che il rock'n'roll sia con voi, tre allegri ragazzi morti, Tele Capodistria in orbita. Quasi adatti a garantire il giusto risultato Quasi adatti a star seduti dentro un'auto accessoriata standard Quasi adatti a scuola e con i trocce fissi ai muri Quasi adatti a discoteche come gabbie Quasi adatti a innamorarsi di un animale a pelo corto Quasi adatti a raccontare agli altri propri cazzi Quasi adatti a raccontare agli altri propri cazzi Quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti Quasi adatti ai pugni presi o a tenerli tesi in alto Per intimorire un arbitro di calcio Quasi adatti a rinunciare alle proprie fantasie Quasi adatti a risolvere tutto con una rapina in banca Quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti Primo perché siete delle leggende per tutti Ma per i fratelli russo molto molto di più E poi perché non vi piace tanto comparire Però questa cosa negli anni in qualche modo l'avete gestita Sì, ci ha dato una mano un po' la maschera a gestirla Sempre è difficile Difatti questa cosa che dicevi dei fratelli russo legati ai ragazzi morti E funziona anche al contrario Per quello siamo qua Per noi è difficile andare in televisione Però ce l'avete chiesto voi E diventava più difficile dirvi di no Perciò abbiamo detto di sì E siamo qua E non sarete gli unici mascherati quest'anno Perché ci sono, ci saranno anche Sik Tamburo e The Wetons Ok, siamo in compagnia direi ottima Quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti, quasi adatti Quasi adatti a spingere le ruote oltre i 220 Quasi adatti a dare il giusto peso ai sentimenti Tre allegri ragazzi morti oggi in orbita sono in cinque E in questo periodo in generale siete in giro in cinque Come mai? Per stupire, per stupire No, il gioco è nato dal fumetto di Davide Chiaramente cinque Beh, Marcella viene in giro con noi da anni E abbiamo conosciuto da poco Stefano Il topolino Stefano Che insomma viene in giro con noi a suonare Ci troviamo bene sotto tutti gli aspetti E quindi siamo diventati di più Forse cresceremo ancora, non lo so Quanto pesa quel copricapo? Niente Quanto scalda? Troppo Quasi adatti Cari amici del Casinola, svegate a voi ancora un saluto del vostro simpatico direttore Zdenko. Bingo, super bingo, roulette, slot machine, poker, del tutto ma anche spettacolo Casinola, svegate a voi con calendario bellissimo. Venerdì ospite, sosia de sosia de Alessia Marcuzzi. Un poco più grassa, un poco più bassa, un poco più brutta, però va del corpo regolare regolare come Alessia Marcuzzi. Casinola, svegate a voi, bellissimo.